... Martedì 2 febbraio, presentazione del Signore. È il trentatresimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 332 al termine. Il sole sorge alle 7.30 e tramonta le 17.19. La luna si leva alle 23.02 e tramonta le 10.10. A Padova un violento incendio distrugge in gran parte il Palazzo della Ragione, detto anche Salon della grandiosa Sala Pensile. Sede delle antiche magistrature patavine, autentico miracolo di statica e di aerea leggerezza, con tetto ligneo a carena coperto da lastre di piombo, fu subito ricostruito a cura di Bartolomeo Rizzo e di maestro Pizzino. Le previsioni per domani. Sulla pianura nuvoloso, con delle nebbie specie nelle ore notturne ed alcune pioviggini a tratti sulle prealpi. Alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle nebbie nelle valli fino a metà mattina. Sulle Dolomiti poco o parzialmente nuvoloso. Temperature in aumento di notte ed in calo di giorno. Soll'unitario